Da noi passavano dei particolari che venivano assiamati e che dovevano portare in volo della gente. E questa era una responsabilità molto grande. E io il giorno in cui sono uscito dalla piaggio, quando ho varcato il cancello, io non nascondo che mi sono fatto il segno della croce. Perché non mi era successo niente, per fortuna, di nostra responsabilità. Giusto per farle capire il perché ne eravamo orgogliosi. Siamo orgogliosi anche perché c'erano delle responsabilità. I singoli operai che assiemavano i vari subassiemi, ogni operazione che facevano la timbravano. Il timbro era personale. Quando arrivava in piaggio la notizia di un velivolo caduto e che portava uno dei nostri motori, posso dire in modo volgarmente, ci cagavamo addosso. Era una rincorsa per andare a vedere la cartella del motore, chi aveva montato il motore. Se non ci arrivavano prima i militari. Questo è per fare capire lo spirito con cui si lavorava la piaccia. Un velivolo, un velivolo che, un velivolo tipo la pattuglia acrobatica o tipo il mangusta, sono velivoli prestigiosi. E quindi il sapere che noi ci avevamo messo le mani, ma era motivo d'orgoglio. Non so se riesco a trasmettere questa… è questo motivo proprio il motivo che ci dava tanta soddisfazione, anche se eravamo poco remunerati. ma questo. Però credo che nessuna paga alta ci avrebbe dato soddisfazione. Sarebbe stata sempre una rincorsa. È il lavoro in se stesso che dava soddisfazione. Questo motivo di orgoglio lo provavamo specialmente in occasione dei passaggi della pattuglia acrobatica, dove i velivoli montavano dei motori che erano passati tutti da noi. Noi avevamo visto i singoli particolari, dal bulonetto ai dischi d'urbina. E vedere passare e sentire il rumore di questi velivoli, e quindi dei dei motori, non nascondo che ci facevamo provare delle emozioni. Quando sono entrato negli anni 70, direi che era il momento di attività maggiore del reparto motori. C'erano linee di dimontaggio sia nel Viper, nei motori Rolls-Royce, quei Lycoming in cui uscivano tanti motori ogni mese, ma tanti. E questo durò fino a quasi tutti gli anni 80. Poi cominciò a calare la produzione. Poi cominciarono i tempi della crisi, per cui la difesa stanziava meno soldi. Con meno soldi i velivoli volavano meno. Avevano ridotto di brutto le ore, per cui volando meno rientravano meno motori. E rientrando meno motori c'era da ridurre personale. Molti dei nostri operai passarono ad altri reparti. Da lì cominciarono proprio un po' da gradare fino agli anni 90, dove si andò in crisi piena. Non mi dico se era il 1994. Si mandavano in cassa integrazione quasi tutta l'azienda. E questa arrivò come una notizia improvvisa. Mi arrivò la telefonata del direttore che mi diceva, senti, qui vanno tutti in cassa integrazione. Rimani tu e scegli due persone. Una della linea Viper, una della linea delle turbine Leicomi. Passai dei momenti di panico. Perché mi sembrava una scelta difficilissima anche rispetto a chi sarebbe rimasto fuori. Ma mi disse il mio direttore, me lo devi dare dieci minuti, non oltre. perché devo comunicare. E allora scelsi due nomi. Li comunicai. Tanta gente non esitò a manifestarmi dalla sua televisione. I due si chiedevano come mai loro. Gli ho detto, ragazzi poi ne parliamo. Oggi è proprio una giornata. E fu una giornata tragica quella lì. Tragica. Perché non si sapeva quanto la gente sarebbe rimasta in cassa integrazione. Volevo precisare che abbiamo tenuto il reparto motori aperto anche per volontà dei militari. Perché i motori erano di loro. Per cui per qualunque evenienza, per qualunque necessità, per qualunque urgenza, loro avrebbero trovato comunque dalla gente che poteva affrontare l'argomento. Oppure andare addirittura fuori nei campi dove c'era bisogno. Questo era il motivo. E affrontammo l'inverno. L'inverno senza riscaldamento, al freddo. Il tempo l'avevamo occupato nell'aiutare il personale della Piaggio a fare gli inventari. Gli inventari di tutti, i magazzini, di qualunque cosa. Per cui fu un'attività di questo genere. Non fumo impiegati per lavori tecnicamente nostri. Volevo solamente aggiungere un episodio che era significativo per quanto riguarda la solidarietà che usciva fuori in certi momenti. Perché, come in tutte le aziende, con delle persone ci si litiga, non ci si va d'accordo, con tante si creano delle grandi amicizie. Poi succedono dei momenti in cui esplode la solidarietà e lì si vede proprio l'affetto verso l'azienda. Se non sbaglio nel 2002 il torrente che è adiacente allo stabilimento esondò. Ed esondò anche all'interno dei capannoni. E fu il panico, perché in terra c'erano pezzi preziosi, e tutta la gente è tornata la sera per aiutare, per mettere su, per salvare il salvabile. E quella è stata un'altra giornata che ricorderò sempre. Tutti quanti sono subvenuti, tutti quanti, tutti quelli che erano possibili, sono tutti venuti dentro per dare una mano. Grazie.